In effetti conoscete già il suo volto perché l'abbiamo più volte coinvolta in delle chiacchierate come curatrice d'arte ma è anche una ricercatrice in storia dell'arte contemporanea presso l'Università degli Studi di Palermo. Cristina Costanzo, ben trovata. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Come non invitarti sapendo che stai per arrivare a Catania per presentare il tuo libro? Esatto, sarò a Catania il 29 in un posto speciale della città che è la Fondazione Brodbeck, che è un luogo meraviglioso votato all'arte contemporanea. Quindi sarò a Catania per presentare un libro, una ricerca che ho svolto negli ultimi anni. Io lo avrei presentato come libro d'amore, ma non inteso come romanzo evidentemente, ma come attestato d'amore nei confronti di un luogo, quale è appunto Gibellina. Il libro si intitola proprio Gibellina, memoria e utopia, un percorso d'arte ambientale. Nel titolo ci sono già tanti elementi concettuali che mi sembrano il nodo della questione affettiva, no? È proprio così, sicuramente è importante parlare di sentimenti, di amore, di affetti, anche se è una ricerca scientifica, una ricerca accademica. Gibellina è il tema di questo volume, appunto il sottotitolo è memoria, utopia, un percorso d'arte ambientale. Diciamo che dai tragici eventi legati al terremoto Gibellina si è imposta nell'immaginario collettivo come un dopos. È in qualche modo un luogo speciale in cui a partire chiaramente dalla tragedia, del terremoto, si è innescato invece un processo virtuoso, connesso intimamente alle arti contemporanee, quindi alle arti visive, alla poesia, al teatro, alla musica, all'architettura. Quindi è un luogo in cui le connessioni interdisciplinari hanno contribuito in maniera massiccia e importante alla ricostruzione. Una ricostruzione che però parte sempre da un'idea visionaria che in quel momento può essere vista come folle. Soltanto gli uomini che hanno questa forza espressiva e questa determinazione riescono a portare avanti le proprie idee. E Ludovico Corrao è figura determinante in tutto questo, come punto di partenza, diciamo. È una figura chiave nel processo di ricostruzione da intellettuale, mecenate, amante delle arti, ma anche da visionario, come hai giustamente sottolineato tu. Ludovico Corrao è stato il promotore di una vera e propria chiamata alle arti. Ha quindi invitato artisti e architetti che alla fine degli anni Sessanta, il terremoto del Belice si registra il 15 gennaio del 1968, quindi negli anni Settanta viene avviato un processo di ricostruzione, perché per chi non lo sapesse, Gibellina viene ricostruita a 20 chilometri più a Valme. Quindi dove c'era Gibellina Vecchia, oggi c'è il cretto di Burrio, il grande cretto di Gibellina, mentre nella città nuova artisti e architetti intervengono per dare un contributo appunto alla città di fondazione e alla ricostruzione, chiamati da Ludovico Corrao. Quindi sicuramente lui è stato il motore di questa utopia ed è uno dei motivi per i quali appunto Utopia è il sottotitolo del volume insieme al tema della memoria. Ecco dunque che la questione centro e periferia inevitabilmente sono anche protagoniste di tutto questo meccanismo. Inteso anche in senso più ampio, chiaramente, cioè come punto anche lì di partenza concettuale. Sicuramente sì, nel senso che intanto Gibellina è come se avesse una duplice natura, c'è una Gibellina Vecchia e una Gibellina Nuova, è già questo elemento di per sé rispetto al quale noi magari abbiamo una certa dimestichezza, perché viviamo in Sicilia, abbiamo una familiarità con questo aspetto, in realtà non è così immediato dal punto di vista dell'accettazione da parte di una comunità. quindi la comunità di Gibellina ha vissuto una forma di sradicamento forzato e quindi c'è stato anche per certi versi uno slittamento visivo, no? Questa città è stata ricostruita in un altro luogo. E nel momento in cui una comunità viene privata per esempio dei suoi luoghi di aggregazione, delle piazze, dei luoghi in cui era solito riunirsi, così come delle chiese, delle strade e così via, allora bisogna creare nuovi luoghi di incontro, anche nuove forme di ritualità. E questi aspetti sono stati interpretati, declinati, osservati con grande umanità, oltre che con esiti artistici notevoli, da alcuni grandi protagonisti dell'arte del secondo novecento, penso a Pietro Consagra, a Carla Accardi, a Nanda Vigo, a Fausto Melotti, ci sono davvero tante le installazioni ambientali, ecco quindi il terzo tema, il terzo nodo intorno al quale si sviluppa questa riflessione su Gibellina. Quindi diciamo che io ho indagato le opere d'arte che sono state realizzate all'aperto, nello spazio pubblico, quindi le opere d'arte fruibili sempre, in qualsiasi momento, e non soltanto all'interno di un museo, quindi non soltanto nello spazio chiuso del museo. A Gibellina esistono due musei di straordinaria importanza, con grandi collezioni, che sono il Museo delle Trame Mediterranee e il Museo d'Arte Contemporaneo, intitolato Ludovico Corrao, sempre a Gibellina. Invece quello che cercheremo di fare durante questo incontro alla Fondazione Brodbeck sarà concentrarci sulle opere all'aperto, sulle cosiddette opere open air o opere d'arte ambientale. Diciamo che si entra poi nel merito di diverse definizioni. Esatto, di atribe. Poi in realtà quello che conta, a mio avviso, è il fatto che la fruizione sia per tutti innanzitutto e che Gibellina nel tempo sia diventato veramente un museo a cielo aperto. Una cosa che io vorrei sottolineare, che non è affatto scontata, anche perché magari non tutti ricordano la storia, stiamo parlando di molti anni fa, vedete che Ludovico Corrao era il sindaco della sua comunità. Sottolino questo perché è stato un sindaco molto intraprendente e coraggioso, non era detto che riuscisse in tutto questo. Ecco, un cittadino, un primo cittadino, rappresenta una comunità e deve rappresentare anche il coraggio di quella comunità. Volevo solo esprimere questo piccolo pensiero perché davvero credo che la storia sia fatta dalle persone e da persone come Ludovico Corrao. Torniamo invece all'incontro che ci sarà giovedì. Sì, è un incontro di cui sono felicissima. Come ho già detto, la Fondazione Brodbeck ci è sembrato uno dei luoghi più rappresentativi per appunto discutere di questioni legate all'arte contemporanea. Quindi sarò in compagnia, in realtà saranno loro a discutere del mio libro perché in queste occasioni l'autore impara moltissimo e accoglie i punti di vista che non conosce ancora. Quindi sono occasioni di crescita anche per chi quel libro lo ha scritto. Quindi ci sarà Nadia Brodbeck della Fondazione Brodbeck, Gianluca Collica, gallerista e appunto direttore artistico della Fondazione e il professor Guido Nicolosi dell'Università degli Studi di Catania che è professore associato in sociologia dei processi culturali. Abbiamo cercato di dare una visione interdisciplinare, poi vedremo cosa verrà fuori. Mi è sembrato fondamentale coinvolgere un sociologo per ragionare con lui su quegli aspetti, su quei fenomeni legati appunto allo sradicamento, alla memoria, alla ricostruzione, a processi comunitari, a processi partecipati e partecipativi. E quindi il suo punto di vista sarà prezioso, come quello chiaramente di Nadia Brodbeck e di Gianluca Collica che invece sono attivi nel campo dell'area più contemporanea. Fra l'altro a proposito del professor Nicolosi avete fatto un'ottima scelta perché è straordinario e quindi complimenti. Giovedì alle 18, Fondazione Brodbeck, Cristina Costanzo, grazie per averlo anche stavolta condiviso con noi. Grazie a voi, a prestissimo, vi aspetto.